Poi si perde con un dribbio di troppo, c'è l'ottima chiusura di Capitan Mavilla che può far partire le contropiede della Bustese e questa volta in posizione regolare Romano Attenzione perché l'attaccante numero 9 entra nel rigore, mette mezzo un po' l'interessante e c'è il gol della Bustese, Alessandro Anzano quarto gol in campionato, al 34esimo minuto si sbloca il punteggio passa clamorosamente in vantaggio la Bustese con il gol del sovrano Alessandro Anzano, 1-0